La nostra scuola è di ispirazione cristiana e comprende scuola dell'infanzia e micronido integrato. I bambini hanno a disposizione un ampio spazio esterno dove poter correre e giocare in sicurezza. È presente il servizio di pre e post orario per agevolare i genitori che lavorano. La nostra scuola è dotata di una cucina interna dove si preparano tutti i giorni i pranzi seguendo i menu approvati della TS. Il personale sviluppa progetti per il potenziamento delle aree logico-matematica, manipolativa, simbolica, espressiva, linguistica e psicomotoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.